All'interno della fornace siamo suddivisi in genere che si chiamano piazzere fino a sono degli equip composte da tre, quattro, cinque persone a secondo della tipologia di lavorazione. La mia è composta da tre persone. Pregrado partiamo dal garzonetto, proprio questo è un termine, diciamo, uno strano, un uranese, veneziano, come vuoi, che sarebbe praticamente il primo gradino. Poi nel caso mio c'è il servente, che è quello che praticamente mi prepara una prima impostazione per passare poi da sottoscritto e assieme arrivare alla fine all'eserzione dell'oggetto. L'unico mezzo che si è è quello di dare tutto a se stesso, infine. Grazie a tutti.